al giornalista del Corriere dello Sport Guido Dubaldo Prende l'attrice Adriana Russo Non è semplice raggiungerci Eccolo qui piano piano E anche Adriana c'è, sta arrivando anche Adriana Buonasera, benvenuto, complimenti Ben arrivata Adriana, eccola qui Ben trovata, attenzione al figlio Amici di quartiere Lo stesso abitavamo nello stesso quartiere A Monteverde, qui sopra Monteverde Vecchio Guido, domenica una partita importante Ovviamente non ti chiedo il pronostico Però dopo qualcuno c'è un'altra partita importante Che potrebbe aiutare, tra virgolette, la Roma In caso di esito positivo del pomeriggio La domenica può essere importante e decisiva questa domenica Siamo domenica positiva Perché al di là del risultato del tempo E' quello che porta in più con i diforsi Poi c'è l'altra partita con la domenica Perché per il caso di una vittoria di Napoli La Roma potrebbe aiutare tutti i conflitti della scuola del Dio Però intanto sarà importante che la Roma faccia un risultato così di un'idea Intanto facciamo il nostro e noi guardiamo Napoli e Juve in tranquillità Assoluto Assoluto Nel tuo gruppo corriere dello sport E tu hai con più di 90 anni Tu sei giovanissimo, quanti anni hai laureato? Beh, una volta leggevo un istruzzo Sono 52 Ci sono 26 anni 50 di anni, non è? Sì Roberto, 50 anni 50 di anni Ah, si Non è levato qualcuno Grazie Adriano, sta girando la seconda parte di Fulione che vedremo sul canale 5 Un'ora e due, dovremmo iniziare a giorni le riprese La fiction dell'anno Abbiamo vinto il delegato Abbiamo superato i braccialetti rossi Quindi, dando successo, facciamo la seconda parte di Fulione Purtroppo non tutti mi hanno riconosciuto Il furore, i capelli bianchi, il sederino pinco, il sederino pinco, il sederino pinco E' difficile trovare dei, cioè io adesso che non vivo più a Montevente ho incontrato lui che viveva vicino a casa mia E non ci siamo mai incontrati a Montevente e ci incontriamo stasera Tra il senso di'appartenenza che è affiabile a Montevente Ma non è vero, rimane Ma c'è una successo Proviamo su questo Parliamo noi due, basta, no, basta Grazie alla gente, comunque ringrazio tutte queste persone che sono qua, che sono venuti a festeggiare tutti questi premiati, io immediatamente ho preso anche questo ornello, mi fa piacere perché sento la vicinanza con queste persone, con questi amici che hanno giocato per tanti anni al calcio e che in qualche modo hanno segnato una parte della mia famiglia, grazie. Complimenti a Vito, la segnatura di Adriano. Grazie a Vito, la facciamo vedere la targa, Guido. Auguri, figli matti.